In Francia, un'auto alimentata a idrogeno prodotto da biometanolo ha battuto il record del mondo di distanza percorsa da questo tipo di vettura, superando i 2000 km. Con una Renault Zoe modificata, il team dell'azienda Arm Engineering di Tarn ha guidato per tre giorni sul circuito di Albi, con una sola carica di batteria e un serbatoio pieno di 200 litri di GH3, un carburante ricavato dalla biomassa derivante dalla metanizzazione dell'etame. Si tratta di una cella a combustione a reforming, che funziona secondo lo stesso principio di una cella a combustibile a idrogeno, con la differenza che il combustibile non è l'idrogeno, ha detto Mark Lambeck, presidente dell'azienda. È GH3, quindi biometanolo, che è composto da idrogeno e che noi riformiamo per creare elettricità e caricare la batteria. Ora vogliamo andare avanti e fare il passo successivo, cercare investitori, cercare di rendere il prodotto più commerciabile e dimostrarlo in altri settori di applicazione, come l'edilizia, i lavori pubblici o altri trasporti più pesanti. Il meccanismo può essere adattato anche a un'auto con motore a combustione, a cui è sufficiente aggiungere una scatola di conversione per far funzionare il GH3. Cinque piloti si sono alternati alla guida del prototipo per tre giorni, dalle sette del mattino a mezzanotte, per battere il record. Quello precedente, di oltre 1300 chilometri, era stato stabilito da una Toyota Mirai negli Stati Uniti.